ciao sono matteo di agrofata oggi vi presentiamo tiosol 80 vogue un fungicida antioidico ovviamente a base di zolfo serve per controllare le malattie come ovviamente oidio e ruggini le piante in questione possono essere vigneti noccioletti ulivi anche fragole volendo l'utilizzo di questo prodotto almeno come lo utilizziamo noi all'interno della scatola troverete un dosatore ok quindi che arriva fino a circa 4 barra 5 grammi per 10 litri di soluzione quindi se avete degli zainetti atomizzatori sia da 10 litri che da 12 litri o anche da 5 litri il dosaggio per 10 litri va da 15 a 20 grammi per 10 litri di acqua con un litro di soluzione andiamo con un dosaggio di circa 3 barra 4 grammi in base anche all'andamento della malattia ovviamente è un prodotto da usare da febbraio a ottobre quindi per una grossa parte dell'anno e la scatola è da 500 grammi quindi si farà un buonissimo lavoro a ottobre quindi per una grossa parte dell'anno e la scatola è da 100 litri di soluzione